Dovremmo ricominciare da capo. Dovremmo ricominciare da capo. Geweglil ceombuto taasitjaja겠어요. Dovremmo ricominciare da capo. Dovremmo ricominciare da capo. Potrei usare io questa camera? Potrei usare io questa camera? Potrei usare io questa camera? Non ho scelta. Non ho scelta. Non ho scelta. Non ho scelta. Non c'è niente di cui preoccuparsi. 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 Ti auguro ogni successo. Ti auguro ogni successo. Ti auguro ogni successo. Non sia troppo modesto. Non sia troppo modesto. Non sia troppo modesto. Potrebbe spedire tramite corriere? 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 Non sono riuscito a capirlo. 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 Non ho guidato in stato di ebbrezza. Non ho guidato in stato di ebbrezza. Non ho guidato in stato di ebbrezza. Abbi fede. Abbi fede. Zasin감을 가지세요. Abbi fede. Abbi fede. Pensi bene prima di agire. Chi fatica in giovinezza, gode i frutti in vecchiezza. Chi fatica in giovinezza, gode i frutti in vecchiezza. Abbiamo degli aspetti da modificare. 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 C'è sempre un altro modo. 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 Vendete anche i giocattoli? Vendete anche i giocattoli? Vendete anche i giocattoli? Vendete anche i giocattoli? In quale hotel alloggia? In quale hotel alloggia? In quale hotel alloggia? In quale hotel alloggia? Essere criticati è orrendo. Binan 받는 것은 끔찍하다. Essere criticati è orrendo. Essere criticati è orrendo. Quanto costa notte la camera? Haraldbam 숙박료는 얼마 in가요? Quanto costa notte la camera? Hanno divorziato. Hanno divorziato. 그들은 이혼했어요. Hanno divorziato. Hanno divorziato. A me va bene tutto. A me va bene tutto. 나는 다 좋습니다. A me va bene tutto. A me va bene tutto. Suppongo che possa aspettare. Suppongo che possa aspettare. Suppongo che possa aspettare. Suppongo che possa aspettare. Cosa vorrebbe sapere? Cosa vorrebbe sapere? Cosa vorrebbe sapere? Cosa vorrebbe sapere? Sto lasciando il mio lavoro. Sto lasciando il mio lavoro. 나는 내일을 그만두 거야. Sto lasciando il mio lavoro. Sto lasciando il mio lavoro. Probabilmente ha ragione. Probabilmente ha ragione. 아마 당신이 맞을 거예요. Probabilmente ha ragione. Probabilmente ha ragione. Non ho niente da dichiarare. Non ho niente da dichiarare. 나는 신고할 물건이 없습니다. Non ho niente da dichiarare. Non ho niente da dichiarare. Questo autobus va in centro città? 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 Ti aiuterà? Ti aiuterà? Ti aiuterà? Ti aiuterà? Ti aiuterà? Devo fare i calcoli. Devo fare i calcoli. Devo fare i calcoli. Non ne rimarrai deluso. Non ne rimarrai deluso. Non ne rimarrai deluso. Non ne rimarrai deluso. Gli ingredienti non sono freschi. Gli ingredienti non sono freschi. 재료가 신선하지 않습니다. Gli ingredienti non sono freschi. Gli ingredienti non sono freschi. Sono un principiante. Sono un principiante. 나는 초보 운전자예요. Sono un principiante. Sono un principiante. Vorrei un posto lato finestrino. Grazie. Vorrei un posto lato finestrino. Grazie. Vorrei un posto lato finestrino. Grazie. Prendiamo un taxi. Taxi. Prendiamo un taxi. Non essere spaventato. Non essere spaventato. Non essere spaventato. Non essere spaventato. Sto facendo una chiamata di lavoro. Sto facendo una chiamata di lavoro. Sto facendo una chiamata di lavoro. Perché hai riattaccato? 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 L'ansia ci fa invecchiare. L'ansia ci fa invecchiare. L'ansia ci fa invecchiare. L'ansia ci fa invecchiare. Attenzione alle scale. Attenzione alle scale. Attenzione alle scale. Attenzione alle scale. Grazie.